buongiorno bentornati sul canale jacopo di vitaly 5 aprile 2021 buona pasqua di nuovo di pasquetta andiamo a vedere i commenti andiamo a finire rispondere ai commenti del mese di marzo ho selezionato un po di domande un po di commenti perché c'erano veramente troppi vediamo un po in quanti minuti ce la cariamo questa volta allora allora iniziamo dal video questo è sotto il video buste paga 4 mila euro al mese con tre anni di esperienza sebastiano otanese dice ho 19 anni mi diplomo fra tre mesi come perito informatico mi conviene lavorare qui in italia per due anni per poi prendermi una certificazione b2 oc1 di inglese e partire senza laurea penso che intenda o partire senza laurea ma con due tre anni di esperienza e qualche certificazione it punto di domanda per sebastiano domanda non è tanto chiara comunque io ti direi che dipende da te se vuoi studiare se c'hai testa di farti tre o quattro anni di università falli è sempre meglio farli specialmente se c'è 19 anni sei giovane perché poi non avrai più tempo energie e voglia di studiare quando poi passeranno gli anni se invece sei non vuoi studiare vuoi dire tanto andare a lavorare ti senti pronto per il mondo del lavoro vai lavora fatti un po di certificazioni professionali di quelle riconosciute dal settore dal e poi dall'estero quello insomma dipende da te è una valutazione che devi fare te in base alla tua propensione a studiare al fare a dedicare tra quattro anni all'università poi big f chiede nel video il video si chiama per neolaureati come farsi assumere dall'investment bank tra l'altro molto interessante per chi di voi ha interesse o lavorare nella finanza vi consiglio di guardarlo quel video di che festa dice sto cercando un'esperienza di un mese esempio summer internship per laureato in economia prima di partire per il master dove consiglieresti di cercare tutte le interessi sono di sei mesi e le farò nel programma di master ma vorrei fare qualcosa prima per arrivare preparato e prima di tutto non capisco se stai parlando dell'italia dove cercare internship in italia o se dici che le vuoi cercare all'estero non riesco capire perché non me l'hai specificato e in generale chiedi ai tuoi professori chiedi ai tuoi colleghi dove cercare le internship avrete sicuramente un portale dedicato dove le aziende sono gemellate col vostro corso di studio e se non l'avete insomma se la maggior parte delle internship richiedono sei mesi e non esistono azioni da un mese io non so cosa dirti purtroppo non sono nel giro dell'università da un bel po quindi purtroppo non t'ho potuto aiutare più tanto poi abbiamo luca parodi che su un video dell'intervista a un mio amico informatico dice io vorrei imparare come si fa a smettere di imparare usando un francesismo direi che ne ho le palle piene della tecnologia anche voi due farete la stessa fine nel giro di pochi anni ne sono sicuro faccina che sorride allora luca dopo che ho letto il tuo commento ho avuto modo di riflettere e capisco perché me lo dici e lo capisco in particolare in questo periodo che sto studiando molti argomenti nuovi su zero trust network lateral movement e altri argomenti di cloud networking eccetera quindi sono sempre dietro a imparare aggiornarmi cercare di capire essere appunto più efficiente più proficiente diciamo su queste tecnologie è in effetti stancante per cui sei impegnato a lavorare sei stare dietro ai tuoi colleghi al tuo capo a tutti i vari progetti in più appena c'è un momento libero devi dedicarlo a studiare robe nuove è pesante e continuare a farlo sicuramente sarà pesante però l'alternativa nel mio caso quantomeno che ho 35 anni e se io smetto di studiare non continuo a formarmi non mi do da fare diciamo la mia carriera avrà molte poche chance di migliorare quindi insomma nel momento ho ancora l'energia e la voglia e il desiderio di studiare magari fra dieci anni ne avrò di meno non lo so vedremo nel momento che non avrò più voglia di studiare però sarà male sarà un male perché vuol dire che anche la motivazione di lavorare è calata comunque ne riparleremo fra una decade ma capisco il tuo commento della serie learn or die comunque perché ragazzi se non ci si continua a giornare non si continua a studiare in questo mondo iper competitivo in questo mondo di oltretutto di taglia il personale di globalizzazione di automazione se uno non è sempre aggiornato non sta dietro gli ultimi trend sarà il primo a essere tagliato quindi il mio consiglio è comunque sempre di studiare però ovviamente dipende in che punto uno si trova nella propria carriera e quanta energia quanta stamina gli è rimasta per mettersi sui libri dietro le certificazioni poi sul video e qua ce ne sono di tutti i colori sul video il voto di laurea non conta nulla che è un video che sta avendo una quantità di view negli ultimi tempi esagerata e qua abbiamo avuto diversi commenti ne ho selezionati un paio andiamo a vedere alcuni di questi commenti abbiamo yn pro che dice di solito chi finisce a 24 anni con pessimi voti significa che ha fatto un rush e per scuro ha passato i vari esami non sapevo se potessero passare gli esami per scuro però vabbè non so di che facoltà parli questo questo questa persona ha commentato magari ci sono facoltà in cui si passano gli esami col culo io gli sapevo che si passavano studiando perché con la fortuna gli esami non si passano comunque anche dopo vari tentativi ma senza uno studio adeguato alle spalle poi li voglio rivedere a 30 anni riprendere in mano i libri perché non si ricordano nemmeno le basi e i concetti fondamentali del loro percorso accademico meglio impiegarci un paio di anni in più ma fare le cose bene e non tornarci più sopra che dover ristudiare poi le cose due volte anche quelle cose già studiate senza che poi si venga a dire che tanto di ciò che si studia non si usa nulla che è quello che sto per dirti appunto non non è vero ingegneria è esattamente il contrario meglio si studia prima e prima si è pronti a essere indipendenti in un'azienda i fighetti che si lavorano con 85 a 24 anni poi ne passano 5 nell'azienda a fare corsi di formazione spesso ripetere cose che non hanno fatto bene all'università ma questo commento mi sembra un commento veramente assurdo è uscito da non so a meno che lui non ha avuto un'esperienza veramente strana veramente esotica in cui è in un'azienda in cui c'è persone che hanno preso 85 e continuano a studiare a ristudiare queste materie perché se non riescono a fare il lavoro se no rischiano di essere licenziate a meno che lui non non sia giustificato da vivere una situazione aziendale del genere quello che dice non ha alcun senso non ha veramente nessun non ha senso vi spiego perché non ha senso prima di tutto quando dice che chi ha passato chi si è laureato a 24 anni per scuolo che vuol dire diciamo in maniera fortunata in maniera fortuita ha riuscito a finire gli esami all'ultimo continuando tantissimi tentativi se lui dice che si è laureato con 85 vedi già è impossibile perché per laurearti con 85 vuol dire che veramente è una media che fa quasi schifo e per avere una media che fa quasi schifo e aver tentato gli esami tantissime volte vuol dire che sei andato fuori corso cioè tu non puoi finire in tre anni e aver tentato un esame sette volte perché se l'hai tentato sette otto dieci volte vuol dire che hai dovuto ripetere gli anni molte volte non puoi continuare a tentare gli esami e laurearti in tempo questa è proprio una contraddizione in termini è impossibile quindi chi si laura in tempo di solito si laura con un voto medio buono perché comunque è riuscito a dosare le sue forze sui vari esami è riuscito a passarli tutti ma non è che li ha passati tutti con 18 di solito li ha passati tutti con dei voti medio buoni e gli esami più difficili ha avuto l'intelligenza di accettare un voto magari scarso 18 20 22 23 non ha sprecato forze energie nel rifarli perché non valeva la pena rifare un esame perché il 18 il 20 ti rovina la media quindi già dire che ti lauri in tre anni senza andare fuori corso con 85 quindi una media bassa già non esiste è un controsenso chi si laura in tempo non si laura mai con una media che fa schifo sono rarissimi i casi in cui succede ammettiamo anche che esistono questi casi e ne ho conosciuto giusto uno ed è un mio amico che è un mio ex collega universitario che si è lavorato in ingegneria ha fatto la triennale ingegneria informatica probabilmente è uscito con 88 90 non ha avuto un gran voto però non è andato fuori corso e appena ha preso il foglio di carta l'ha preso l'ha buttato ed è andato subito a lavorare non è neanche fatto la specialistica ha fatto un anno e mezzo a milano come java developer poi si è trasferito a londra e lavora a londra dal 2007 2008 ed è in una posizione molto senior come java developer non penso non mi risulta che abbia passato i cinque anni della sua carriera a studiare ristudiare concetti che non aveva capito questa è proprio una roba che mi fa ridere me lo immagino che cavolo teoria dei circuiti l'equazione di laplace piuttosto che le formule di maxwell come farò a compilare questo codice non riesco non mi ricordo come si fanno le derivate triple piuttosto che il teorema dei carabinieri il teorema del massimo me l'han chiesto in un colloquio il cliente mi ha chiesto di fargli un algoritmo java di trading per una banca utilizzando il teorema di eulero oppure la formula di non so cosa no l'85% degli esami che abbiamo fatto nella triennale di ingegneria informatica non servono un cazzo per lavorare questo è uno spoiler per i giovani per chi mi segue per chi non è ancora nel mondo del lavoro per chi lo è già sicuramente mi darà ragione quindi questo commento di y n pro è veramente fuori dal mondo sono veramente scioccato da leggerlo però è sempre bello vedere punti diversi ecco i famosi fighetti che si lavorano con 85 a 24 anni ma in che mondo vivi vabbè andiamo avanti poi dice sempre lui quindi secondo te non ce la fa entro i c chi non ce la fa entro i 5-6 anni deve mollare non è che deve mollare può anche finire può anche fare come alcuni miei colleghi universitari che a 29 30 anni hanno finito la triennale forse la specialistica a 31 anni è ovvio che vadano avanti la finiscano è un problema loro hanno buttato tempo soldi e specialmente tempo perché inizieranno hanno iniziato a lavorare a 31 anni mentre io ho iniziato a lavorare a 25 quindi io gli do 6 anni di differenza io in 6 anni di lavoro sono salito di carriera di lavoro di esperienza tanto così ho anche guadagnato perché oltretutto ho lavorato e ho guadagnato mentre loro in quei 6 anni erano a fare gli aperitivi al barder ponte a pavia a fare le serate a bere alle rotone di garlasco perché ovviamente poi non passavano gli esami quindi facevano le serate quindi loro hanno deciso di passare i 20 anni tra i 20 e i 30 a fare a cazzeggiare va bene si sono laureati alla fine non è non è morto nessuno hanno semplicemente ritardato il loro ingresso nel mondo del lavoro di 6 anni di 7 anni se a loro gli sta bene se a loro i genitori gli andava bene buttare i soldi per pagargli l'affitto nell'appartamentino pavia pagargli soldi per la vacanzina d'estate perché poi oltretutto oltre a non passare gli esami dovevano anche andare a festeggiare a farsi le vacanze io se fossi stato loro padre non gli avrei dato neanche 5 euro per la benzina ecco vabbè comunque queste ognuno ha la sua visione della vita c'è chi pensa che bisogna godersene bisogna prendere tutto easy e chi invece pensa che bisogna lavorare farsi il culo io sono nell'ultima categoria se non l'avevate capito va bene andiamo avanti Alessio Gagliardi non sono per niente d'accordo il tuo pensiero anzi mi sembra che tu stia solo assecondando la triste condizione schiavista del lavoro in Italia nessuno è un robot c'è chi è bravo ed è capace a studiare in fretta e bene c'è chi per problemi personali perde anni e poi riesce a terminare all'estero essere più grandi si è visti come persone mature e quindi come risorse è chiaro nel settore informatico prima inizio e meglio è e siccome c'è una competitività mostruosa basti pensare che India o Cina sforano informatici specializzati quando non hanno neanche 17 anni boh non so questa teoria dove l'ha detta mentre in altri settori tipo il mio socio educativo più sei adulto più sei affidabile quindi hai più possibilità ovvio gli stipendi sono un'altra categoria però mi piace l'educatore come lavoro se mi dà uno stipendo per campare sono più che felice è ovvio che ti deve piacere quello che studi e stiamo dicendo che l'educatore e l'ingegnere informatico vadano bene o non vadano bene però tu mi stai dicendo che nessuno è un robot c'è chi finisce in fretta e chi no sì è ovvio poi ognuno ha le sue capacità c'è chi riesce a digerire un corso di studi a finire in tempo a fare gli esami in tempo e a uscire da quell'inferno chiamata università italiana nel più breve tempo possibile chi ci sta di più è ovvio che se uno ha avuto problemi familiari problemi economici magari non riuscirà a laurearsi in tempo non è che siamo tutti uguali abbiamo tutti le stesse condizioni però idealmente ripeto il vostro lavoro da studenti è semplicemente quello di fare gli esami passarli e laurearvi in tempo se invece il vostro lavoro non è solo studiare ma anche lavorare aiutare i vostri genitori allora è andate fuori corso va bene ci può stare però qua spoiler ho un amico che lavorava in raffineria a San Nazaro si è laureato in geologia se non erro e lavorava 40 ore a settimana durante tutto il periodo degli studi ha iniziato a studiare a 25 anni 24 poi ha iniziato tardi studente lavoratore lavorando 40 ore a settimana full time si è laureato senza perdere gli anni né nella 39 né nella specialistia mi direte geologia più facile di legge va bene però nonostante lui abbia dovuto lavorare si mantenesse si pagasse il mutuo aiutasse i suoi genitori eccetera è comunque riuscito a lavorarsi in tempo quindi anche dire eh sì però lavoro è non è sempre una scusa ognuno si crea le proprie scuse si trova le sue giustificazioni quello è così quindi sul fatto di nel mio settore è meglio se sei più adulto e più affidabile non ho capito certo mi sta dicendo se uno finisce tardi con gli esami se uno si laurea a 28 anni inizia a lavorare più tardi visto che anagraficamente ha 28 anni secondo te è più adulto di un ragazzino che si è laureato 23 a 24 inizia a lavorare 24 non credo semmai è una persona che anagraficamente è più grande ma a livello di responsabilità e di etica lavorativa è più piccola perché ha impiato più tempo a meno che non ci sono delle attenuanti problemi familiari eccetera gravi non cazzate gravi devono essere allora uno può giustificare un andare fuori corso però comunque continuiamo a discutere di questa cosa poi ok boomer la laurea è un percorso di crescita e non un gioco a chi finisce e chi finisce prima vince questo è bellissimo secondo me ci sono studenti che si bloccano e altri più bravi perché in inghilterra si laureano tutti a 20 anni ma dai non dire stupidaggine coi tuoi video fai solo psicoterrorismo ringrazio di essere nato in un momento in cui fare l'università non era ancora una mafia con tutti i test di ingresso preselettivi altrimenti a quest'ora stavi ancora a scrivere la tesi che cazzo dici? io ho iniziato l'università nel 2003-2004 l'università era già quello che era non è tanto cambiata da quello che è adesso in inghilterra si lavorano tutti a 20 anni e 21? sì perché in inghilterra non puoi andare fuori corso se vai fuori corso sei un coglione e non ti fanno andare fuori corso ti aiutano a restare in corso ti aiutano a finire e se tu vai fuori corso rovini il ranking all'università quindi l'università ha come interesse quella di tenere il minor numero possibile di studenti che perdono l'anno o che veramente non riescono a laurearsi quindi in inghilterra si a 20 anni 21 anni finiscono la treennale e vanno a lavorare chi invece vuole fare un anno in più fa la specialista che dura un anno non due e poi va a lavorare a 22 anni e funziona così in inghilterra non so ne ho stupidaggini se te che sei ignorante che sei una capra non sai nulla e non è psicoterrorismo io quando vi dico che dovete finire il prima possibile e lo dico questa cosa si applica al 95% degli studenti poi c'è un 5% che ripeto andrà a fare il ricercatore accademico andrà a fare una carriera di un certo tipo e per lui è importante avere voti alti avere il voto prestigioso ma tutti gli altri il 95-98% delle persone il voto ve ne pulite il buco del culo del vostro voto non interessa a nessuno non interessa il datore di lavoro non interessa a nessuno quanto avete preso all'università quanto avete preso in scienze delle costruzioni quanto avete preso in diritto privato non interessa a nessuno gli interessa che hai finito prima e specialmente interessa a voi perché se avete finito prima guadagnate uno, due, tre anni di vita sugli altri e in questi tre anni avete modo di lavorare fare esperienza, testare potete anche cambiare lavoro e vedere cosa vi piace e non avete l'ansia di esservi laureati fuori corso a 28, 29, 30 anni e quindi dover accettare qualsiasi cosa vi danno perché non avete più tempo materiale da sprecare l'avete già sprecato tutto vabbè, comunque se c'erano i test d'ingresso all'ingegneria eh sì, sì, non mi sarei laureato in tempo non mi avrebbero preso e tra l'altro il test di selezione di matematica c'era l'ho fatto e l'ho passato se non l'avessi passato mi avrebbero semplicemente mandato a fare un tutor per integrare le mie capacità matematiche questo era il test che c'era in Italia a ingegneria informativa Pavia, ecco poi andiamo avanti qui ci siamo riscaldati molto, devo dire Mattia Beltrame sono un ingegnere meccanico questo è un altro video come potrei materialmente chiedere lavoro in Gran Bretagna? questo Mattia Beltrame si è perso si è scordato che è successo a Brexit siamo in una pandemia quindi non provo neanche a rispondere a un messaggio del genere poi Filippo Ghiglioni chiede domanda forse stupido, come al solito mi è stato detto che all'università di informatica che se voglio intraprendere un futuro lavorare nell'automazione industriale e robotica devo passare immediatamente a ingegneria informatica senza nemmeno pensarci è vero? o anche se si esce da informatica pura si può lavorare nell'ambiente software engineer per la robotica e automazione industriale? certo che si può lascia perdere chi ti ha detto che devi cambiare facoltà o che devi fare altri 3-5 anni e studiare qualcosa che poi non ti servirà quasi a niente quindi finisci di ingegneria informatica se devi andare a scrivere software per la robotica e l'automazione manderai curriculum alle aziende che fanno software e coding per la robotica eccetera e ti farai assumere come ingegnere informatico che si occuperà del loro software semplice poi non so poi chi vi dice queste cose sicuramente sono i vostri professori che non hanno mai lavorato un giorno nella loro vita e non capiscono un cazzo di cosa vuole il mercato del lavoro poi abbiamo questo è molto importante questa non è una domanda ma è una cosa che devo leggere a tutti voi Davide Ravasi ci riporta la sua esperienza e dice io l'università l'ho schippata ho iniziato a lavorare in una start-up come sviluppatore a 18 anni a 22 mi sono trasfitto a Zurico e ho trovato lavoro tranquillamente senza avere una laurea tuttora ricevo un sacco di offerte di lavoro per posizioni che tecnicamente lo richiedono avevo anche passato un interview con Microsoft ma ho rifiutato perché a Zurico è meglio invece quella della posizione di Microsoft era a Praga quindi se avete le idee chiare a priori va bene, schippare l'università è ottimo ma dovete far valere quei 3, 4, 5 anni che avrete liberi nel mio caso il prossimo lavoro sarà più incentrato sullo di Product Ownership, Analyst perché la programmazione comincia a stufarmi dopo 4 anni e mezzo che la faccio e anche in questo caso devi farti con le certificazioni per conto tuo e smazzarti ovviamente la formazione che non ti sei fatto all'università e nulla quindi questo era per riportarvi una testimonianza vera importante di un ragazzo che tra l'altro ha 22 anni e lavora a Zurico e quindi guadagna un sacco di soldi e vive nel paese secondo me è il paese più bello al mondo la Svizzera secondo me è il paese più bello al mondo e vabbè quindi questo è sempre per spezzare una lancia a tutti quelli che ha l'università italiana gli esami ti formano bene ma cosa vi formano? andiamo avanti De Musk qua si parla dell'S lunga perché ho fatto un video che si chiama mi indegno leggendo l'articolo sull'S lunga che assume 3.000 persone De Musk dice ma il bello è che per entrare all'S lunga è anche parecchio difficile manco fosse un impiego statale da 2.000 euro al mese vabbè è da dire che su quel video nei commenti c'è un sacco di gente incazzata ah ho toccato l'S lunga il mostro sacro vabbè l'S lunga poi abbiamo il video che si chiama e vi consiglio di guardarlo si chiama bisogna mandare un'email dopo il colloquio e abbiamo Giovanni Cordone che dice vivo in UK da 6 anni e di colloqui ne ho fatti tanti ho acquisito una sufficiente esperienza nel concordare col video ma quale email di follow up i deboli e i falliti fanno queste cose l'unica cosa che otterrete è di perdere la chance perché risulterete deboli agli occhi dell'employer del datore di lavoro e vi darebbero il posto solo se nessun altro si presenterà con la metà dello stipendio ma con la metà dello stipendio vi daranno il lavoro solo se non c'era nessun altro più dimostrate di non aver bisogno di loro dei datori di lavoro e più potrete ottenere lo stipendio alto non comportatevi come i soliti falliti italiani guardatevi il video nel video spiego perché non bisogna essere come dire lecca a piedi ed essere addosso a reclutatori e aziende quando avete sostenuto un colloquio dovete lasciarli correre se non vi richiamano non vi cercano vuol dire che non avete ottenuto il posto se invece vi cercano e voi non li avete cercati siete in una posizione di negoziazione forte non rovinatele mandando un'email di follow up questo è il senso del video poi andiamo avanti con il video su merdaglia un cameriere guadagna più di un ingegnere della Ferrari abbiamo Jacopo Marchesi al posto di lamentarvi cercate di cambiare le cose fate veramente ridere se si vuole cambiare un paese non è questo il modo io non voglio cambiare il paese anzi io voglio sto incentivando i giovani a far le valigie a andarsene da questo paese da un paese in marcia un paese dove i giovani non hanno futuro e devono guadagnare i soldi di un cameriere dopo aver studiato 5, 6, 7 anni in materie tecnico-scientifiche quindi qua nessuno vuole cambiare il paese o salvare l'Italia lungi da noi è un'impresa troppo difficile non ha senso neanche provare a concepire l'idea di salvare l'Italia l'Italia non è salvabile l'Italia è una causa persa poi sempre sotto quel video abbiamo Chris1387 ma io non capisco quale azienda in Italia ha mandato il curriculum 1300-1500 ore di stipendi in ambito informatica le ho visti solamente per persone tra junior e mid developer io sono passato sicurezza informatica lavoro da un anno junior non ho una laurea in ingegnere informatica solo diploma in informazione ma guadagno più di 2000 al mese netti mi pagano 3000 di certificazioni all'anno lavoro fisso in smart working e non spendo niente per andare al lavoro e ho anche una specie di quindicesima premi produzione rimborsi assicurazione sanitaria all'80% e lavoro solo da un anno ragazzi andate da Chris1387 lui ha trovato la chiave di Pandora per guadagnare tanto non andare in ufficio avere la quindicesima e fare i pascià in Italia non ha neanche fatto l'università cosa seguite il mio canale cosa volete imparare da me c'avete questo qui che fa 2000 euro dopo un anno di lavoro senza la laurea ma va va a raccontare sai chi mi ricorda questo commento potremmo cambiare Chris1387 con ragioniere Calboni avete presente quando va a Courmayeur che Calboni spara balle a tutti fa finta di conoscere le principessine noi i regnanti i Savoia ecco questo qua è spara palle spara cazzate se non è una palla comunque lui è l'unica persona in Italia che guadagna 2000 euro senza la laurea e con un anno di esperienza quindi c'è vabbè però mi sembrava bello riportarlo il suo commento sul canale Nicola Corrado confermo che nel sud Italia esiste la pratica di restituire parte dello stipendio al proprio datore di lavoro ecco questo è sul video storie di successo si trasferisce dalla Sicilia in piena pandemia ed è questa cosa mi ha lasciato veramente scioccato non avevo idea non sapevo che c'era questa questa pratica veramente oscena di ti assumono in Sicilia o in altri posti in Italia ti assumono ti vanno 1200 euro al mese poi devi darne 600-500 indietro al tuo datore di lavoro cioè ma che cazzo di paese è ma e poi quello del commento prima dice che dobbiamo salvare e cambiare il paese ma il paese può andare a fanculo ragazzi un paese in cui ci sono i datori di lavoro che chiedono i soldi indietro ai loro dipendenti oh ma poi diciamo che sono i politici sono stronzi che il sistema è marcio che le tasse sono alte ma sono gli italiani che sono stronzi sono queste persone qui che vi assumono e poi vi chiedono i soldi indietro ma che cazzo è ma donna mia oggi non ce n'è senza senza controlli senza limiti poi abbiamo Lorenzo Bulgeroni sempre su quel video della storia di successo del ragazzo che parte dalla Sicilia dice bella storia se una persona cicherebbe tutto è possibile ma il Regno Unito non doveva implodere con la Brexit e poi risata a quanto pare non è ancora imploso anzi il Regno Unito è il primo paese al mondo dopo Israele penso per il numero di vaccinati e per la campagna di vaccini e per il supporto anche alla popolazione perché le casse integrazioni grant investimenti e soldi che sono stati stampati tra virgolette per sostenere l'economia inglese durante il lockdown è uno dei primi paesi al mondo quindi sì non è ancora imploso manca poco perché non è che vanno proprio benissimo le cose però non è ancora imploso nonostante la Brexit ecco poi chiudiamo con Davide Ruggeri che commenta il video lavorare nelle costruzioni in UK e dice ma quindi un muratore e un informatico guadagnano più o meno lo stesso e Salamaghi risponde immagino guadagni più il muratore ragazzi l'altro giorno sono uscito siamo visti con il mio amico quello che mi ha raccontato le cifre che ho riportato nel video e ve le ripeto di nuovo un manovale guadagna può guadagnare tra le 140 e le 180 al giorno questo mio amico guadagna 180 al giorno mi ha detto che in un mese circa contando tutti gli straordinari che fa supera le 5000 sterline arriva quasi a 6000 sterline al mese sterline e fa il manovale il giorno che fra qualche mese fra 6 mesi o un anno quello che è riuscirà a passare al rango di bricklayer quindi muratore quello che con no mettere i mattoni tira sui pareti i bricklayer prendono 240 al giorno ora prendete 240 moltiplicatelo per 21 che sono i giorni di un mese però se poi ci sono i sabato i giorni diventano 23 24 fate 24 per 240 sterline e vedete quanto entra in un mese a un muratore e ditemi se guadagnano poco se quindi in effetti guadagnano bene confermo chiudiamo qui l'episodio di marzo risponde ai vostri commenti è stato un episodio bello caldo bello incazzato tante parolacce per chi è arrivato alla fine del video complimenti scrivete qua le domande per il prossimo per la risposta ai commenti di aprile statemi bene tanti saluti ciao